Io mi preoccupo tutti i giorni, dalla mattina alla sera, lavorando senza contare le ore di lavoro, mi preoccupo di dare il massimo lavoro possibile a tutti gli operai italiani. E sono felice quando so che una fabbrica, che un'industria, che una maestanza ha garantito il lavoro per un lungo periodo del tempo. E' duro consentirmi perché questa è la parola della derribica militare.